Io sono Danila Chiapperini e sono socia fondatrice insieme ad altri ragazzi pugliesi di Apuia Kundi. L'alga spirulina è stata considerata il cibo del futuro dalla FAO nel 2007 per due ragioni molto fondamentali. Una è quella delle proprietà nutritive. La spirulina si caratterizza perché contiene tantissime proteine, fino a tre volte le proteine della carne e sono tutte proteine vegetali contenendo tutti gli aminoacidi essenziali, contiene tantissime vitamine e sali minerali. Pertanto è un super cibo che fa molto bene perché integra la nostra dieta. Oggi è molto importante parlare di cibo sostenibile e la spirulina è un alimento assolutamente sostenibile nel senso che sia produrre spirulina che consumare e mangiare spirulina ha un bassissimo impatto ambientale. Se vogliamo possiamo sottolineare il fatto che non ha proprio un impatto ambientale perché si stima che ogni chilo di spirulina secca prodotta dall'atmosfera addirittura vengano catturati due chili di CO2. Quindi è esattamente il contrario. La spirulina si caratterizza come un alimento straordinario. La spirulina possiamo mangiarla tal quale oppure possiamo divertirci come vogliamo in cucina. La possiamo aggiungere in un frullato, in uno yogurt, su una fetta biscottata con la marmellata, nell'insalata, in una macedonia. Salato e dolce, come vogliamo. Oppure addirittura possiamo anche inventarci di impastarla sempre in dolci o salati, rendendo la farina la possiamo aggiungere un po' come utilizziamo i semini in cucina, la aggiungiamo negli impasti, possiamo fare dei biscotti alla spirulina, della pasta alla spirulina, così come la facciamo anche noi, torte, creme, qualsiasi cosa, davvero, in base alla nostra fantasia e ai nostri gusti. Con le microalghe però in generale, non soltanto con la spirulina, si può lavorare in tantissimi ambiti d'applicazione. Dalla cosmetica, che è uno degli ambiti in cui stiamo iniziando a lavorare e stiamo iniziando già a sperimentare, alle bioplastiche, al biodiesel, dalle alghe si può fare la carta, tutto chiaramente a livello molto molto sostenibile. A me piace dire che fa bene sia all'uomo che alla nostra terra.